La mano, la cassetta, la sua testa, ti hanno riconosciuto, è tutto vuoto e allora copriamo il dado, chiudo la cassetta magica, ora il dado lo metto qui dentro, oh eccoci qua, bambino lo vedete tutti? Bravissimi, e adesso? Dico le parole magiche e il dado sparisce, abracadabra sin salabì, il dado è sparito, infatti come vedete qui non c'è, ora vediamo se magari è di qua, è sparito, avete visto? Come non è sparito? E dov'è allora? Di qua? Chi ha capito il trucco, alzi la mano, allora ho capito tutti, e allora io voglio un bimbo che non solo ha capito il trucco, ma che vuole scommettere, avete paura? Ah sì? E allora stavolta, viene vediamo un po', uno che non è ancora salito, vieni qua tu dai, la bimba, la signorina, vieni qua sopra, questa è la vostra rappresentante, chi si chiama? Giada. Giada, tu dici che il dado è dentro? Io dico che è sparito perché sono un mago, e te lo dimostro, è lì? No. Lei ci vede bene qua vicino, eh? È qui? Neanche. E allora è sparito, se non è qui e non è lì? Come? Un attimo, eh? La rappresentante mi sta dicendo che bisogna aprirle tutti e due? È così? La mano? La cassetta? La sua testa? La sua testa? Ti hanno riconosciuto. È tutto vuoto? E allora copriamo il dado. Chiudo la cassetta magica. Ora il dado lo metto qui dentro. Oh, eccoci qua. Bambini lo vedete tutti? Bravissimi. E adesso? Dico le parole magiche e il dado sparisce. Abracadabra, sin salabin, il dado è sparito. Infatti, come vedete, qui non c'è. Ora vediamo se magari è di qua. È sparito! Avete visto? Come non è sparito? E dov'è allora? Di qua, eh? Chi ha capito il trucco? Ha il ciranano. Allora, ho capito tutti. E allora io voglio un bimbo che non solo ha capito il trucco, ma che vuole scommettere. Ah, avete paura? Ah, sì? E allora stavolta? Vieni, vediamo un po'. Uno che non è ancora salito. Vieni qua tu, dai. La bimba, la signorina, vieni qua sopra. Questa è la vostra rappresentante. Chi si chiama? Giada. Giada. Tu dici che il dado è dentro? Io dico che è sparito perché sono un mago. E te lo dimostro. È lì? No. Lei ci vede bene qua vicino, eh? È qui? Neanche. E allora è sparito se non è qui e non è lì, voglio... Come? Un attimo, eh? La rappresentante mi sta dicendo che bisogna aprirle tutti e due. È così?